sabato 15 moda sotto le stelle organizzata dalla conf commercio di asti partirà alle 21 qui in piazza medice abbiamo il direttore di conf commercio ascom di asti al quale chiediamo un'iniziativa che si ripete negli anni evidentemente è a successo beh questa è l'undicesima edizione di moda sotto le stelle da quando con commercio se ne occupa direttamente organizzandola è un evento che ormai inserito nel settembre stigiano e credo che sia un momento importante per promuovere il commercio per fare in modo che il turista o chi frequenta asti in questo periodo particolarmente interessante dal punto di vista diciamo così dell'offerta non solo enogastronomica e commerciale perché siamo in un momento in cui c'è la duia un momento in cui c'è stato domenica scorsa il festival delle sagre credo che questo sia un momento importante anche per il commercio astigiano prova ne sia che noi da anni stiamo lanciando lo slogan o stiamo avvalendici di uno slogan che il paglio promuove il commercio il commercio promuove il paglio un discorso collegato ad un sistema di diciamo così di promozione valorizzazione anche delle attività commerciali dei nostri negozi storici del centro che rappresentano un'offerta di qualità un'offerta diciamo così molto importante per quello che il turista cerca prime prove d'abito qui in una boutique del centro in piazza medici ad asti abbiamo una modella che si è prestata che sabato sfilerà con le altre ragazze quanti abiti sfileranno della sua boutique e quante modelle avremo più o meno una trentina di modelle per il mio il mio negozio oltretutto avremo anche il negozio di buona vita baby con altre tanti bambini se non di più lei è una delle bellissime modelle che sfileranno per noi in questa meravigliosa location di piazza medici e sentiamo quindi la modella sole che abito indosserà sabato e che questo bellissimo abito è un abito di santucci bellissimo come tutti gli abiti che si trovano all'interno di buona vita laurea infatti ha veramente un un occhio particolare per ognuna di noi ci ha vestite secondo il proprio stile mandando evidenziare quelli che sono i nostri punti di forza in particolare quest'abito è un abito in ecopelle è bellissimo e riprende molto la moda di quest'anno però è anche un po innovativo grazie a queste borchie e niente non vedo l'ora di indossarlo sabato